Prosegue la marcia di avvicinamento all'appuntamento del 26 maggio, che aria si respira all'interno del centro-sinistra? Un'area nuova, un'area bella, un'area pulita, un'area che andrà a parlare al cuore della città, parlando dei temi della città. Sicuramente del tema della sicurezza, per quale già sono stati stanziati diversi fondi per la videosorveglianza, ma noi non ci fermiamo solamente a dire che serve una videosorveglianza, serve che i cittadini partecipano alla rivitalizzazione dei luoghi. Solo così avremo davvero la sicurezza su tutta la città e con i temi del mare, un'area nuova anche dal punto di vista del mare. Siamo pescaresi e l'importanza del mare è importante non solo per noi ma per tutta la regione. Grazie anche a un mio impegno in regione, la regione ha stanziato dei fondi per il depuratore, i lavori del depuratore stanno andando avanti, da sindaco accelererò sicuramente tutte le procedure e finalmente avremo la separazione tra acque bianche e acque nere. Certamente area di risulta, i cittadini hanno fatto negli anni le battaglie affinché in quell'area ci fosse il parco del centro-città. Io non posso non ascoltare i cittadini che vogliono questo, ci sarà un parco nel centro-città ma ci saranno i parcheggi in maniera meno impattante rispetto di adesso e finalmente dopo almeno 25 anni quella parte centrale della città avrà una connotazione positiva. Abbiamo nel programma una cosa molto semplice che mai nessuno ha fatto, si fa in alcune città ed funziona il bilancio partecipativo. Chi non può pagare le tasse o ha difficoltà invece di andare a mendicare o a fare altro dovrà essere impiegato nei lavori che migliorano la città. La nostra città va restituita a chi la abita e insomma non sono pescaresi ma provengono da tante città e da tutto l'Abruzzo per cui restituiremo la città a tutti i cittadini. Abbiamo dei punti chiari, tanta volontà, chi conosce la mia storia conosce anche la mia concretezza quindi andiamo a vincere.